Il problema dei mitilicoltori del primo seno del Mar Piccolo è stato al centro della seduta del Consiglio Comunale di questa mattina. I consiglieri sono ancora riuniti per approvare un documento a sostegno dell'azione amministrativa del Comune e degli stessi allevatori per i quali occorre decidere le forme di supporto economico a compensazione del blocco delle vendite. In Consiglio sono stati portati due ordini del giorno dei consiglieri Carelli e La Ruccia che hanno suscitato il dibattito poi chiuso con un documento unitario di maggioranza e opposizione. Il centro ittico il cui presidente Massimo Giusto è stato ascoltato dall'Assemblea sta intanto raccogliendo le autocertificazioni degli allevatori per completare il censimento di quanti hanno i campi nel primo seno del Mar Piccolo. E la radiografia è indispensabile perché il Comune possa stabilire le forme di sostegno. Di questo problema si occuperà domani la Giunta che dovrà decidere l'entità delle risorse finanziarie da mettere a disposizione per sostenere i miti di coltori per il reddito perso a causa del blocco decretato dall'Asle.